L'annosa questione dell'autostima, voi avete saputo che mio papà ha preso il premio Nobel Quando l'ha preso, ovviamente potete immaginare in famiglia il livello di feste che ci sono state Però un po' meno che se fosse successo in un'altra famiglia Perché io, fin da quando sono proprio piccolino così, mi ricordo mia nonna, la mamma di mio papà Che diceva sempre a mio papà, tu prenderai il premio Nobel, tu prenderai il premio Nobel Quando l'ha preso tutti abbiamo detto, cazzo aveva ragionato la nonna Allora, la mia domanda è, mio padre ha preso il premio Nobel perché era molto bravo O era molto bravo perché aveva la mamma sciroccata che continuava a dirgli Tu prenderai il premio Nobel e sei convinto